ciao ragazzi benvenuti in dog caffè oggi parliamo di labrador di cosa in particolare dopo la sigla bentornati allora da qualche giorno ma mi era capitato anche diciamo in passato qualcuno mi ha tra i vari commenti sui social mi ha esposto la necessità di dover tenere il proprio labrador cucciolo prevalentemente in giardino le motivazioni sono diverse naturalmente non posso tenerlo in casa non voglio i peli o forse non lo sanno gestire eccetera al di là della motivazione che può spingere un proprietario di labrador a tenerlo o decidere di tenerlo in giardino vi dico subito che come avete visto nel titolo di questo video il labrador non è un cane da giardino perché io penso che nessun cane sia un cane da giardino a meno che non siano dei cani che debbano essere addestrati per svolgere questo lavoro cani da guardia eccetera ma quelli sono dei cani addestrati allora perché dovremmo tenere un cane in giardino al di là del fatto che un giardino possa essere comodo per i bisogni per iniziare subito la routine igienica definitiva cosa che diciamo non possono fare le persone che stanno in appartamento e quindi devono passare attraverso i faldoni nel periodo in cui non hanno completato il ciclo vaccinale eccetera eccetera avere un giardino è sicuramente comodo però perché perché apro la porta il cucciolo va fuori sborca e poi rientra ammesso che rientri tenere un cane in giardino perché ci culliamo del fatto che ha tanto spazio e quindi ci scarichiamo della responsabilità di doverci occupare noi in realtà è un errore non è così allora il labrador non ha bisogno di spazio ha bisogno di noi voi dico sempre che voi potreste vivere anche sotto un ponte se il cane è con voi se il labrador è con voi lui sarebbe felice se invece vivete in una reggia con un giardino di non so quanti ettari il labrador non sarà per niente felice infatti molte persone mi dicono io ho tanto giardino e me lo ritrovo sempre dietro alla porta e certo è chiaro vuole stare con noi perché perché un cane selezionato per questo un cane che non so racconto una storiella non so se chi di voi la conosce magari si ha studiato un po la storia del labrador il labrador che proviene comunque dal cane di st john un cane molto simile al labrador di oggi con le dovute differenze e trasformazioni del tempo e delle selezioni era un cane che operava e lavorava con i pescatori per recuperare le reti in canada nell'isola di terranova quello che è più particolare quando leggete la storia del labrador è leggere appunto cosa facevano la sera questi cani dopo che andavano a lavorare con gli uomini che i pescatori che andavano se li portavano sulle barche facevano un duro lavoro ogni giorno la sera tornavano a casa e giocavano dentro con i bambini questa è una storia che dice tutto perché non è che erano dei cani da lavoro e che poi la sera venivano dopo averli utilizzati tutto il giorno per lavoro la sera venivano messi in canile o chissà dove isolati facevano parte della famiglia facevano parte del branco famiglia il che li rendeva anche molto più equilibrati perché avevano un'esperienza diversa sia di lavoro ma anche la loro docilità era anche adatta non solo ad essere addestrabili ma anche a vivere quindi in in famiglia con i bambini questa è una storia che è un pezzo della storia che mi ha sempre affascinato da quando l'ho letto la prima volta e si ritrova ancora oggi quindi capite bene che già questa storia vi dice che il labrador in giardino lasciato lì non ha non ha senso ma cosa succede infatti se voi decidete di lasciare il labrador in giardino e lui incomincia ad essere ho parlato diverse volte all'isolamento dal branco quindi cosa fa intanto andate contro natura il cane è un animale sociale e quindi deve stare con il branco non sta diciamo da solo perché in natura equivarrebbe a un pericolo di vita la forza del branco è importantissimo mentre se il cane sta il labrador sta da solo allora anche un certo punto comincerà a industriarsi comincerà a trovare qualcosa da fare per esempio a rosicchiare a distruggervi le piante a stressarsi sostanzialmente carichiamo il cane di uno stress dovuto appunto alla solitudine e alla mancata al mancato rapporto che noi costruiamo con lui e quindi alla mancata relazione non lo dotiamo di quell'equilibrio che potrebbe benissimo avere se semplicemente lo tenessimo accanto a noi avete visto già il video sulla notte come basta tenersi il cane spesso il cucciolo anche senza kennel sotto il letto o accanto al letto per risolvere una serie di problemi anche abbastanza gravi se non avete visto il video cliccate qui sicuramente vi sarà utile quindi diciamo avere il cucciolo lasciato in giardino oltre che essere un pericolo per la sua salute e anche potrebbe creare proprio un problema mentale dovete stare attenti a questo aspetto del pericolo fisico per la sua salute fisica perché potrebbe ingerire delle cose che non deve ingerire pezzi di tubo di cose da giardino di plastica che poi sarà difficile sicuramente potrebbero creare di molto danno addirittura arrivare all'operazione ma anche per la sua salute mentale semplicemente voi dovete tenere il cane con voi quanto più possibile usando il kennel naturalmente ma vi dico anche che potete utilizzare il giardino se questo lo utilizzate come appoggio e per appoggio intendo quando dovete per esempio far sporcare il cane oppure fare insegnare al cane come sporcare all'inizio dove sporcare il rapporto dentro fuori in una casa con giardino è più immediato che non un appartamento che ha delle scale parti condominali un ascensore eccetera quindi è sicuramente molto più semplice però ho ricevuto nella mia esperienza di allevamento comunque anche di educatore ho ricevuto spesso feedback positivi da persone che vivono in appartamento anzi la maggior parte li ricevo da persone che vivono in appartamento perché se è pur vero che all'inizio hanno delle difficoltà di gestione del cucciolo sali scendi cortineria problemi con i condomini eccetera e pur vero che il fatto di avere la necessità di portare il cane almeno tre volte al giorno fuori per farlo sporcare e li costringe ad avere una relazione maggiore un contatto più stretto con il cane altra cosa per quanto riguarda il giardino su come potete utilizzarlo diciamo come appoggio non è soltanto ok c'ho la possibilità farlo sporcare subito no è anche un luogo dove voi vi potete divertire con il cane potete passeggiare con il cane potete fare delle attività fuori con il cane quindi il giardino lo utilizzate come se fosse un parco soltanto che avete la fortuna di averlo privato inoltre c'è un altro pericolo di cui tenere conto quando lasciamo il cane in giardino che è quello del cancello diciamo della recinzione del proprio terreno che è sempre un punto critico un punto in cui i cani vengono stimolati negativamente da tutto ciò che sta fuori il proprio terreno ma di questo ne parleremo in un prossimo video iscriviti al canale iscriviti al canale